Ci troviamo a Lizzano in provincia di Taranto, in pieno coronavirus, il sindaco della cittadina ha deciso di convocare il consiglio comunale per giorno 7 aprile. In effetti non è che ci sia chissà quale necessità di riunire la massima assise e l'opposizione, la minoranza in consiglio comunale ha fatto valere le sue ragioni, ha sottolineato l'inutilità nonché il carattere rischioso del provvedimento. La cosa strana è che mentre si dice giustamente se vuoi bloccare il contagio non ti fermare a parlare quando vai alla posta, infatti ci troviamo davanti all'ufficio postale dove è stato affisso il manifesto, poi contemporaneamente si convoca questo consiglio. Per carità si manterranno anche le distanze dovute ma in questo periodo è davvero inopportuno, se non per certi versi anche rischioso, convocarlo. Siamo con Gianluca Lecce, consigliere comunale di Lizzano per articolo 1, il quale ha da dichiarare più di qualcosa. Ringrazio direttore per questo spazio, per questo spazio di democrazia, ma io come capogruppo di articolo 1 ritengo che sia inopportuno in questo momento a Cingere, a riunire un'assise per parlare, per fare un consiglio comunale sul bilancio, per quanto riguarda il DPCM che il governo ha emanato, che entro il 31 hanno spostato tutto al 31 di maggio. Quindi non c'è necessità perché non si può portare nessun tipo di documento del DUP, di documento programmatico, se non ci sono opere da programmare e non si può discutere nient'altro. Noi pensavamo che ci fossero dei provvedimenti per aiutare la cittadinanza, per aiutare i cittadini, per aiutare le attività, ma di tutto questo non c'è ombra, non si parla di nulla. Quindi noi ci stiamo riunendo per chiedere il differimento del Consiglio Comunale stesso, visto quello che si sta vivendo in questa cittadina e nella nostra nazione e nel mondo, che è una cosa molto, ma molto, ma molto seria. Stiamo avendo soltanto dei provvedimenti che il governo ci sta mandando, come tutti i paesi hanno mandato, ci hanno trasferito e stiamo avendo dei provvedimenti solo della Regione Puglia. Oltretutto, tra i punti all'ordine del giorno, non è che ci sono argomenti di chissà quale importanza, eccezione fatta per il riconoscimento di due debiti, mi pare, fuori bilancio, nulla di che. Sì, si portano due debiti di fuori bilancio, che ahimè sono cose che purtroppo ogni comune arrivano e si pagano. E ripeto, noi siamo così democratici, la minoranza è unitaria tutta, a parlare di qualsiasi tipo di provvedimento che riguarda i cittadini e le attività, gli aiuti per questa emergenza. Per il resto, siccome non ci sono le condizioni per decidere nulla, noi non siamo disponibili a fare un Consiglio Comunale in un'aula con 19 persone, di cui oggi si sta affrontando anche la domanda per quanto riguarda il buono che ci hanno dato l'aiuto del Governo, dove la gente sta usando gli spazi. E quindi chiederò anche come Consigliere Comunale la significazione degli ambienti anche qua. Quindi, ripeto, noi ci stiamo riunendo per chiedere il differimento, perché si si porterà imu e tari senza aggiunta, senza diminuzione, ipoteticamente, si approva un bilancio per poi gestire dopo. Gestire per gestire dopo rimandiamo tutto al 31 di maggio, come ha detto il Governo.